Sindaco De Michelis, un'esercitazione più che mai operativa perché c'è stato anche un intervento fattivo di pulitura di una strada che serve anche da tagliafuoco, quindi non soltanto manovre simulate ma qualcosa di concreto oggi qui ad Andorra. Per noi è un evento importantissimo perché noi nella ricerca di una tutela della sicurezza dei cittadini e naturalmente dell'ambiente siamo riusciti a organizzare un evento che coinvolge Liguria, Lombardia e Piemonte ed è un evento che sicuramente ci darà un grande riscontro sul nostro territorio. Tenete conto che l'anno scorso siamo venuti qua a vedere purtroppo che bruciavano 200 ettari di macchia mediterranea e 60 erano soltanto sul nostro territorio. La protezione civile purtroppo aveva un problema perché non riusciva a scollinare in provincia d'Imperia, siamo riusciti con l'aiuto del Presidente Totti e anche del Presidente Vaccarezza a cambiare la normativa che ci consente di scollinare fra la provincia d'Imperia e la provincia di Savona. Questo anche grazie alla nuova unione dei comuni che abbiamo costituito.